Adesso la nostra scuola di magia dedicata, lo sentirete, soprattutto alla questione del Messa, gli interventi di Claudio Borghi Aquilini a partire dall'11 dicembre del 2019, attenzione alle date, quando inizia tutta la questione con quell'intervento che adesso riascoltiamo alla Camera e poi naturalmente quegli ultimi. Buon ascolto! Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Onorevoli colleghe e colleghi, oggi siamo chiamati a dare al nostro Presidente un importante mandato, perché in Europa non si discuterà di qualche inutile ed astruso regolamento per il diametro di qualche ortaggio, ma in realtà parliamo di trattati internazionali. Quei trattati che una volta ratificati diventano del tutto sovraordinati alle nostre leggi, quindi nessuno pensi che queste decisioni potranno essere emendate in futuro. Il trattato è per sempre. Il problema però è cosa farà il nostro rappresentante, indipendentemente da ciò che è scritto nelle nostre risoluzioni. Perché forse è il caso di ricordare cosa accadde a giugno. Vede, Presidente, per arrivare a fare l'informativa alla Camera, il Presidente del Consiglio, quella che abbiamo sentito settimana scorsa, il Presidente del Consiglio ha fatto fare ai suoi collaboratori un lavoro certosino per cercare le note scritte in piccolo le volte che si è nominato il MES in passato, per far credere che noi eravamo informati di tutto. Però così facendo il Presidente ha offeso il Parlamento e ha umiliato l'Onorevole Di Maio, che gli sedeva imbarazzato di fianco. Ma chi credeva di prendere in giro? Ma noi abbiamo seguito da vicino la trattativa a giugno. E il mandato che aveva era solo uno. Era dire che quel trattato l'Italia non l'avrebbe mai firmato. Ma glielo dissero Salvini e Di Maio. Ma nel caso non vogliamo credere a quello che gli è stato detto direttamente, ma ci dica, Presidente, che cosa non ha capito quando l'Onorevole Molinari in quest'Aula le disse che l'evoluzione del MES che si stava pensando era una follia e noi non lo possiamo accettare. Che cosa non capiva? Ma quando intervenne il capogruppo d'Uva, perché i partiti che ne sostenevano quelli, perché poi è un po' difficile pensare quale fosse il mandato politico, se i due partiti le dicono queste parole di dubbia interpretazione, quando intervenne il capogruppo d'Uva le disse avvallare nella sua forma attuale la riforma del MES significherebbe legittimare proprio quelle stesse regole fiscali che stiamo criticando da anni. Non possiamo accettare che si tracci una riga che distingua fra gli stati di serie A e gli stati di serie B. Ecco perché, Presidente, sul MES, e cito sempre l'Onorevole D'Uva, l'Italia dovrebbe farsi sentire a gran voce, con inflessibilità, non si deve procedere oltre su questa riforma. Cosa non capiva? Cosa non capiva? Ma se il giorno in cui lei, che aveva la responsabilità del nostro mandato, vede sul sito del Movimento 5 Stelle, il partito che ahimè l'ha proposta come Premier, un post che si intitola No a questa riforma del MES e dopo una corretta spiegazione del problema, ottima devo dire, scrive Abbiamo chiesto al Governo di non votare e quindi di fatto porre il veto ad una riforma di quel genere. Ma cosa non capiva? Ma me lo dica! E se poi Gualtieri e Centeno ci dicono che il testo, invece, è stato da lei approvato ed è chiuso, ma cosa dobbiamo pensare? Quando l'abbiamo visto adagiato sui divanetti con la Merkel, Macron, Rocco Casalino davanti a un bel giro di birre, se li ricordava questi impegni? Se li ricordava questi impegni che il Parlamento le aveva consegnato? Certo, allora, è un po' anche colpa nostra, eh, onorevoli colleghi, e mi ci metto anche noi che abbiamo dato la fiducia a questa persona. Perché, certo, se da Cavour e De Gasperi noi possiamo mandare a trattare con l'Europa Conte Rocco Casalino, di che cosa ci possiamo aspettare? Noi, noi forse siamo ingenui, noi forse siamo ingenui, ma cosa posso pensare se io sento che il trattato è stato approvato ed è chiuso? Che lei è un traditore, Presidente. Il tradimento, però, va sanato con qualcosa, con la dignità. Una prima occasione l'abbiamo persa, l'ha avuta l'onorevole Di Maio, perché mentre lei qui faceva credere che questo Parlamento non avesse fatto altro che parlare di Messi in passato, e che Di Maio sapeva tutto, che aveva approvato ogni sua mossa, ma che bello sarebbe stato se si fosse alzato e le avesse detto pianta la bugiardo, lasciandolo sola, andandosene via, e infatti anche oggi non c'è. Però adesso c'è un'altra possibilità, e qui mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Non è impossibile sapere come la pensate veramente sul MES. E la revisione del trattato include il trattato precedente e la peggiora, perché è un'orribile unione fra MES e Fiscal Compact, con le stesse regole. Beh, preferirei, permettetemi di citare qualcuno di voi. Comincio con l'onorevole Tiziana Ciprini, che diceva solo un governo di diversamente intelligenti poteva firmare la condanna a morte del proprio popolo. Non era obbligatorio firmare il Fiscal Compact e il MES per rimanere in Unione Europea. 173 di questi diversamente intelligenti siedono ancora in quest'Aula. E poi iniziò a indicarli uno a uno. Ora, sempre l'onorevole Ciprini diceva con le leggi di ratifica del Fiscal Compact e del MES ci avete condannato a essere una colonia delle superpotenze, da spogliare a piacimento. Avete rinunciato a essere uno Stato sovrano. Ci avete consegnato nelle mani di un'oligarchia finanziaria anonima. Mi sono convinta che quel giorno d'estate avevate già la mente in vacanza e non sapevate cosa stavate votando. Allora vi rinfresco la memoria. MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, esegue una perfetta descrizione del MES. Perfetta. Andatevela a rivedere sugli stenografici. E chiude. Ricordo che, sempre l'onorevole Ciprini, ricordo che non tutti i governi sono coglioni come quello italiano e alcuni si sono rifiutati di firmare. Questo è quello che cito. Sto citando lo stenografico dell'onorevole Ciprini. Deputati, 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 deputati. In questa... Non ho aggiunto niente. Ho citato l'onorevole Ciprini. In questa occasione si alzò... In quell'occasione in cui l'onorevole Ciprini molto correttamente raccontò di che si trattava il MES, si alzò per esempio l'onorevole Giuseppe Brescia, che indicò a dito la lista dei deputati che avevano votato il MES. Si alzò Laura Castelli, che disse «Chi avete informato quando avete deciso di votare questa roba abominevole del MES». Si alzò Alessandro Di Battista, che puntò il dito contro l'onorevole Boccia e disse «È colpa di Boccia Francesco che ha votato a favore del MES». E il fiscal compact. Si alzò Maria Edera Spadoni, che disse «Continuo la lista dei colpevoli che votando il MES hanno di fatto infilato la nostra testa nel cappio del Boia». Per esempio Rosato Ettore, una curiosa cosa fra due vicepresidenti. Si alzò l'onorevole... Dov'è che era? Era lì. L'onorevole Carlo Sibiglia, che disse mentre si dicevano i nomi di chi aveva votato il MES «È fastidioso sentire il proprio nome nella lista dei traditori della patria, la traditori della Repubblica Italiana che hanno votato il MES. Chi si è macchiato di questa colpa è un traditore e vi voglio guardare in faccia a tutti per ricordarlo». Sottosegretario Sibiglia. Poi si alzò anche Maglio Di Stefano «Concluda?» E disse... Eh, un secondo... E disse... C'è stato anche interrotto. Quando fate campagna elettorale, fatela dicendo che avete approvato voi il MES e vediamo quanti vi voteranno. Fate la campagna elettorale così ricordate che li avete uccisi e ogni giorno li uccidete grazie alle vostre scelte eccellerate. Giulia Grillo, avete mai sentito in campagna elettorale Renzi parlare del MES? No, perché quando è stato approvato è stato approvato nel totale silenzio dei media. E poi una bella mozione che dice «Appare paradossale che il destino del denaro degli stati sovrani conferito a un fondo perduto al MES venga utilizzato per salvare banche e banchieri regalando loro questo inammissibile salvacondotto sovranazionale firmato da Sibiglia, Di Stefano, Zolezzi, Tofano, Liuzzi, Dincà». Bene, bene, bene. Allora, mi spiace ma dobbiamo salvare l'Italia dal pericolo del MES e da un'umiliazione. E l'umiliazione non è facendo credere che firmeremo. Diamo chiaro mandato sperando che non tradisca di nuovo ma se tradisce di nuovo vuol dire che scende dall'antenora al nono cerchio a questo punto. Perché qui veramente andiamo sempre più in basso. dicendo semplicemente che finché non si cancelleranno i riferimenti alla ristrutturazione del debito che è incostituzionale per l'articolo 47 la riforma delle clausole di azione collettiva i parametri di condizionalità che ci impedirebbero di accedere ai fondi del MES senza passare per le procedure aggravate incostituzionale per l'articolo 47 Porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radio rpl.it ma il governo governa per dpcm ma il governo se ne va in europa a decidere cose importantissime per il futuro della nostra nazione sbattendosene del Parlamento grazie presidente allora il mio ordine del giorno serve a sanare una delle tante sciatterie che ci sono in queste in queste leggi e che spesso in commissione bilancio purtroppo vediamo vale a dire prevedere compiti ulteriori con i mezzi attualmente a disposizione che significa che due cose o c'è in questo momento della gente che si gira i pollici oppure state ingannando la commissione bilancio e quindi l'aula perché non è possibile che ci siano le risorse per poter fare dei compiti in più rispetto a quelli che attualmente sono previsti per qualcosa specialmente come in questo caso cose onerose come programmi di rinserimento successivi per i clandestini che dovessero essere accolti e quindi si fa praticamente fare agli enti locali anche la scuola a parità di risorse ma io però vorrei partendo da questa sciatteria riflettere su cosa è diventato questo Parlamento cari colleghi riflettete un attimo cosa stiamo facendo noi stiamo parlando per ore su ordini del giorno perché purtroppo è l'unica arma che è rimasta l'opposizione quella di riuscire a parlare di queste cose quando qui dovremmo parlare di leggi dovremmo dare indirizzi al governo ma il governo governa per dpcm ma il governo se ne va in Europa a decidere cose importantissime per il futuro della nostra nazione sbattendosene del Parlamento mentre noi siamo qua a parlare degli ordini del giorno il ministro Gualtieri se ne è andato in Europa e ha dato l'assenso a una riforma che ci porteremo per i secoli a venire ma vi rendete conto di come siamo messi e presidente lei lei sì presidente Maria Edera Spadoni che ieri era evidentemente in collegamento in commissione bilancio ha visto cosa è successo ha visto che nessuno dei suoi colleghi del Movimento 5 Stelle ha dato l'assenso al ministro per poter parlare e per poter approvare quella riforma e davanti a questa sua personale testimonianza io sono convinto che lei non possa negare il risultato cos'è stato? che il ministro ha detto no io prendo, vado e approvo capite perché qui parlare di ordini del giorno è mortalmente svilente per questo Parlamento perché anche le volte che ci sono delle occasioni di confronto o di informativa su temi importantissimi non sono bagatelle su temi importantissimi il ministro non dà alcun peso a quello che viene detto qua in Parlamento ma come facciamo a farci umiliare così? ma è colpa nostra attenzione non è colpa del governo se il governo gli fa fare qualsiasi cosa va bene noi potremmo anche riprendere in mano un filo di dignità e per riprendere in mano un filo di dignità basterebbe fare una cosa semplice e qui mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle di cui ho letto un sacco di interventi su Facebook, sui social dicendo no il ministro ha sbagliato il ministro non ha fatto quello che noi dicevamo all'ordine del giorno sì sì mi attego la Presidente però guardi che l'ordine del giorno purtroppo è tutto collegato a tutte queste questioni perché qui se non chiariamo la funzione del Parlamento qua che facciamo allora nel momento stesso nel momento stesso in cui voi vi sentite ci si sente defraudati della propria prerogativa di parlamentari guardate che basta avere la dignità di ripescarlo per un orecchio il ministro e di sfiduciarlo voi mi date un cenno mi dite che siete stati defraudati ottimo fatemi un cenno qui si presenta una mozione di sfiducia al ministro e vedete che non ride più e vedete che non fa più quello che vuole basta quello altrimenti sono chiacchiere altrimenti sono soltanto quacquaracqua non si può fare il post su Facebook e dire ah mi sono mondato la coscienza qui c'è una dignità del Parlamento da recuperare per tutti così magari la smettiamo di parlare di ordini del giorno e ricominciamo a parlare del destino di questo Paese ma caspita abbiamo un'occasione nella vita per poter essere parlamentari e ce la giochiamo così questo purtroppo vedete quando all'epoca fu abolito il vitalizio signor Presidente tutti dicono ah bene giusto la casta ecco cosa abbiamo prodotto invece abbiamo prodotto 630 pavidi che hanno paura di essere disoccupati e quindi allora voterebbero qualsiasi cosa collega è una vergogna che questa istituzione sia finita così voterebbero qualsiasi cosa contro quello che hanno detto contro quello che hanno sempre affermato calpesterebbero i loro principi perché hanno paura di ritornare alla disoccupazione grazie ma che vergogna è da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio alla fine è successo alla fine è successo sono passati abbiamo resistito per due anni tante cose non le avete viste tante cose sono state parte di una resistenza continua costante fatta di incontri segreti fatta di accordi fatta di tentativo di fermare quello che potenze molto 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 più forti stavano apparecchiando per noi il ministro senza nessun mandato dal Parlamento ha dato l'ok alla riforma del MES è tutto finito? in teoria la parola ultima dovrebbe averla il summit dei capi di Stato quindi settimana prossima vedo molto improbabile che Conte rinneghi i suoi ministri perché o Conte non approva la riforma del MES e quindi Gualtieri ovviamente deve lasciare subito e quindi significa crisi di governo e quindi significa tutti a casa oppure molto semplicemente Conte dirà che va bene così che in realtà quei dei 5 stelle che non erano d'accordo erano soltanto due o tre scappati di casa ma che l'accordo di tutte le forze di governo e quindi anche l'EU ha un altro scappato di casa a Fassina sì Fassina uno scappato di casa Raduzzi un poverello insomma tutto il gruppo di quelli che dicevano no che hanno detto di no stamattina che nell'unico luogo parlamentare hanno detto sono dei mitomani degli scappati di casa che in realtà lui ha mandato pieno e quindi ci sarà una bella risoluzione dove che verrà votata qualcuno magari dei 5 stelle non la voterà magari la voterà qualcuno di Forza Italia faranno spallucce e in ogni caso in ogni caso è piuttosto improbabile diciamo così però ragazzi non lo so magari guarda sarei il primo a dover a dover riconoscere invece che che di essermi sbagliato che le cose in realtà non vanno come come pensavo e temevo se invece incredibilmente all'Eurosummit Conte dice che no si sconfessa quello che dice il suo ministro e l'Italia dice no a questa riforma mortale a me non dispiacerebbe perché vedremo sparire di colpo sia il governo che Gualtieri vediamo però il risultato è che quello che fino a ieri il Movimento 5 Stelle definiva una riforma invotabile su cui mettere il veto l'austerità grandi post sul blog delle stelle che dicevano a noi questa cosa non la passeremo mai anni passati a segnare a dito quelli che avevano detto sia il mess traditori traditori della patria e così questo tipo ce li ho tutti gli interventi ce li ho tutti vi ricordate in parte li avevo detti li avevo detti li avevo letti alla camera il risultato è che invece cosa ho consentito questa cosa crimi vito crimi una persona che stimavo una persona che era venuta anche ad ascoltarci le prime volte a pescare e ai noi purtroppo protempore capo politico del Movimento 5 Stelle per un motivo semplice non so se avete capito non so se avete colto la meccanica della giornata io sapevo che l'Eurogruppo sarebbe andato oggi per costringere l'Italia ad approvare la riforma sapevo che avevano preso per le orecchie Gualtieri e gli avevano detto adesso basta giocare dovete sottomettervi punto sapevo che lui non vedeva l'ora di sottomettersi sapevo che le forze del deep state italiano dal Quirinale in giù approvavano la sottomissione dell'Italia così come hanno sempre spinto anche quando eravamo in maggioranza noi però quando eravamo in maggioranza noi qualche tentativo di resistenza l'avevamo fatta ma anche lì non serviva perché senza una un fronte decisivo da parte del Movimento 5 Stelle che avesse avuto il coraggio di rinnegare il suo stesso conte anche noi non facevamo nulla vi ricordate le interrogazioni che facevo io a Tria comunque io sapevo come andava come andava a finire l'unica speranza era cercare di spaventare Gualtieri allora stamattina l'ho fatto stamattina approfittando del fatto che sapevo che quelli che sarebbero intervenuti del Movimento 5 Stelle in audizione sarebbero stati tutti contrari alla riforma una volta che si è sentito che tutti i rappresentanti della Lega erano contrari quelli di Fratelli d'Italia erano contrari Fassina ha fatto l'intervento contrario tutti quelli della Lega erano contrari quindi anche quelli di Forza Italia hanno detto ma vogliamo avere informazioni quindi non hanno detto favorevole senza problemi gli unici favorevoli i soliti traditori della patria Partito Democratico e Italia Viva bene sulla base di questo io ho detto una cosa ho detto apposta una cosa Gualtieri per farlo spaventare vale a dire io gli ho detto Gualtieri occhio che tu stai andando senza mandato perché la tua interlocuzione che hai avuto col Parlamento questa mattina che è l'unica che dovrebbe darti un qualche tipo di indirizzo la tua interlocuzione ti ha dato un messaggio univoco vale a dire che tu non dovevi non dovevi dare il tuo assenso allora lui si è sentito in un vicolo cieco perché ha capito che quella che qualcuno ha definito una minaccia aveva una base e allora che cosa hanno fatto hanno chiamato Crimi dicendo adesso tu ci devi coprire e Crimi invece di fare l'uomo che cosa ha fatto ha completato il tradimento ha detto per il Movimento 5 Stelle non c'è contrarietà alla riforma del MES capite perché l'avrei fermato se Crimi non avesse detto così perché lui non avrebbe avuto il coraggio lui a quel punto sarebbe andato lì a dire ma io come faccio a dirvi sì nel momento stesso in cui tutti mi hanno detto no rischio rischio infedeltà in affari di stato rischio il tradimento allora hanno preso Crimi una persona di cui io non dico che mi fidavo perché mi fido di poca gente ma una persona di cui avevo fiducia e l'hanno costretto a dire sì a quel punto lui può essersi fatto forte dell'ok dei partiti di maggioranza in quanto Crimi seppur in teoria non rappresenta nessuno ma formalmente è il capo politico del Movimento 5 Stelle e lui ha potuto svendere definitivamente l'Italia dando il suo ok alla riforma del MES quindi spero che sia chiaro cosa è successo cos'era il mio tentativo e com'è andata quindi abbiamo una persona che è responsabile ovviamente politico di tutto ciò che è Gualtieri che ha avuto l'ardire di andare senza mandato parlamentare perché oggettivamente il signor Crimi può dire quello che vuole ma nelle sedi opportune nulla di tutto ciò è stato detto vale a dire fanno fede le risoluzioni quello che è stato detto in aula e quello che è stato detto stamattina in audizione quindi la responsabilità di Gualtieri rimane intatta e dall'altra parte abbiamo un responsabile morale di questo di questo schifo e purtroppo mi spiace dirlo è il signor Vito Crimi del Movimento 5 Stelle mi spiace perché c'erano altri del Movimento 5 Stelle che mi stanno meno simpatici ma in questo caso purtroppo la colpa è tua glielo ho anche scritto glielo ho anche scritto perché piacerebbe farvi vedere i suoi messaggi no tranquillo quando ai tempi quando si doveva resistere contro l'introduzione del mess sanitario o dell'introduzione del mess come strumento per resistere alla pandemia stiamo resistendo stai tranquillo stiamo resistendo bene per cosa ti sei venduto Vito? per cosa ti sei venduto? cosa ti hanno dato? cosa ti hanno promesso? e mi rendo conto secondo mandato e poi dopo che cosa faccio? che cosa ti hanno promesso? lo vedremo presto temo che lo vedremo presto che cosa ti hanno promesso però non dovrebbe andare così io penso che il nostro paese ha avuto pochi eroi ha avuto tanti traditori ma io credo che quando uno venendo da umili origini venendo da da lavori modesti ha avuto l'onore la possibilità di servire l'Italia come deputato e come senatore ma caspita ma io penso che uno dovrebbe contare che ogni atto che fa è un atto con cui verrà ricordato in futuro è una grazia è un insomma è una fortuna che veramente pochi cittadini possono avere quello di essere ricordati per il loro servizio che hanno avuto che hanno fatto la patria hanno si ha la possibilità di di essere ricordati bene adesso noi non ci rendiamo conto perché si vive il presente vivendo il presente sembra che tutto sia un gioco poco importante ma quello che stiamo facendo adesso le generazioni future lo riguarderanno e ci sarà qualcuno a cui intitoleranno le vie e qualcun altro invece che verrà additato come come un traditore che verrà additato come un si faranno i proverbi cioè Maramaldo Cador cioè capite ci sono dei 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 personaggi che alla fine rimangono per la loro negatività ma per che motivo per che motivo e comunque adesso scusate noi fino adesso abbiamo avuto questa interessante situazione che fa capire cos'è la malattia della democrazia all'interno dell'Unione Europea le cose vengono decise all'interno dell'Eurogruppo che è un organismo informale senza che formalmente non esiste quindi senza senza verbali senza votazioni senza riprese senza niente è una cosa che non c'è e dopo di che dopo che le vere decisioni sono state prese lì a un certo punto invece nell'Euro subito quello dei capi di Stato ci sono solo le ratifiche semplicemente si va a mettere il bollino finale e queste decisioni all'Eurogruppo col fatto che un organismo informale possono essere prese senza nessun tipo di votazione parlamentare precedente perché il trucco è sempre quello ma no è il loro gruppo tranquilli ci sarà la votazione prima dell'Euro summit ora la democrazia così malata a me oggettivamente fa schifo uno dei motivi per cui a me quest'Unione Europea fa ribrezzo è il contrario della democrazia è il contrario dell'accountability è il contrario della responsabilità che noi eletti dobbiamo dobbiamo a voi che ci avete che ci avete eletto però va così però c'è un passaggio formale così è giusto per capire come e perché dovranno andare le cose prima dell'Euro summit quindi credo il 9 si dovrà votare la risoluzione a questo punto la risoluzione non potrà più contenere le parole vaghe ma si continueremo a negoziare continueremo a fare quella risoluzione dovrà necessariamente contenere finalmente per una volta scritto il via libera alla schiavitù e allora a quel punto ci saranno sì tutte le facce delle persone che diranno sì e che diranno no e se il movimento 5 stelle si spacca perché qualcuno voterà sì per tacitarsi voterà no per tacitarsi la coscienza mentre gli altri voteranno sì e dall'altra parte magari arriverà la forza italia e invece dirà ma un po' voteranno sì anche loro un po' voterà no e vediamo allora si andrà alla conta dei voti ma io penso che quel voto non sia senza conseguenze io penso che una cosa così grave non sia senza conseguenze ricordiamo a cosa serve questo mess questo mess così come tante altre trappole che sono state messe sulla nel percorso nel percorso dell'italia serve solo una cosa serve quando sarà il momento quando sarà la situazione giusta a forzare l'italia sulla strada della grecia a costringerla a fare quello che altri vorranno non c'è nessun altro motivo quello che dice crimio no ma noi diciamo sia la riforma perché altri magari lo vogliono usare madonna ma noi non lo useremo voi capite che quando si arriverà il momento di usare questo questo mess non ci saranno le scelte non è come il mess sanitario che uno dice l'abbiamo congegnato però purtroppo il giochino ci è andato male perché anche quello sarebbe stato il giochino per metterci subito in ginocchio però andava male anche la Francia e quindi è intervenuta la banca centrale non fosse andato la Francia non sarebbe intervenuta la banca centrale ci avrebbero costretto a prendere il mess sanitario in futuro non ci sarà la scelta di prenderlo o non prenderlo ci sarà lo spread a 500 e a quel punto ti diranno prendi il mess e taci e a seguito della sottoscrizione del mess arriverà la ristrutturazione del debito pubblico italiano vale a dire il fallimento dell'Italia e il memorandum tipo Grecia tagliare le pensioni tagliare gli stipendi vendere i beni pubblici magari regalare l'oro qualsiasi cosa questo è altro altro non è che una tonnara che noi abbiamo costruito dicendo no ma noi non ci entreremo mai aspetta che costruisco questa tonnara quando fatta esattamente con lo spazio delle dimensioni giuste perché ci entri la nostra c'entri la nostra testa amici oh sentite io veramente lo vedete è tre anni che combatto con cose che vedete cose che non vedete avessimo avuto noi il 30% e il Movimento 5 Stelle il 17 le cose sarebbero andate diversamente sì ringrazio qualcuno del Movimento 5 Stelle che ha consentito fino adesso di poter resistere perché voi sapete perfettamente che per tutti i discorsi che vi ho sempre fatto sulla maggioranza e l'opposizione se la maggioranza vuole andare da qualche parte non c'è possibilità di fermarla quindi il fatto che fino adesso si fosse fermato tutto è la nostra opposizione ma la nostra opposizione disponda con qualcuno del Movimento 5 Stelle altrimenti non si sarebbe fermato così come non si fermano altre porcherie che il governo che il governo giallorosso ha fatto non solo se sono in Parlamento puoi anche provare a fare ostruzionismo come stiamo provando adesso per cercare di far saltare il decreto clandestini va così chiamiamolo così perché così capiamo adesso noi qui saremo abitati in aula cercando di farlo decadere ma per una cosa che non passa dal voto del Parlamento o non passa secondo le procedure normali del voto del Parlamento c'è poco da fare hai bisogno di una sponda nella maggioranza quindi io ringrazio qualcuno che fino adesso sia opposto però mi spiace quando a un certo punto si arriva al dunque uno deve anche poterle trarre le conseguenze perché qui non stiamo scherzando non è che sono delle cose boh così succederanno o similari e no qui sono cose che 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 verranno ricordate esattamente come il Fiscal Compact e similari ma peggio peggio questo qui è proprio un atto di sottomissione dell'Italia non so se avete notato non una singola notizia in nessun giornale europeo tutti zitti una volta approvato alè festeggiamento ministro dell'economia tedesco Scholz da tutte le parti grande risultato MES a bindolare come dei cretini e tutti dicevano ma è un anno che l'Italia adesso guardate i commentatori guardate i commentatori esteri leggeteli non è Borghi leggete i commentatori esteri dice ah un anno che che l'Italia blocca perché dice che questa cosa era invotabile per loro adesso senza una virgola di cambiamento al trattato non una virgola cioè quello stesso trattato che era invotabile criminale per il Movimento 5 Stelle adesso senza una virgola di cambiamento è stato approvato la logica di pacchetto di conte tanti saluti perché l'assicurazione sui depositi non neanche si vede quindi quello che serve si approva subito le altre cose si si è tranquilli ci pensiamo dopo e potete stare tranquilli che anche l'assicurazione sui depositi verrà provata solo e solo se bisognerà salvare i depositi tedeschi va così l'unica arma residua l'unica perché vedete che pre-regolamenti parlamentari e così via il governo fa il cavolo che vuole il governo con il dpcm in Europa va senza mandato fanno esattamente quello che vogliono adesso si vogliono assumere 300 persone della task force così si fanno il senato privato il senato privato così possono decidere loro delle cose l'unica arma è votare ogni volta quando si può ma tante volte sbagliamo anche noi è sbagliato il candidato qui in Emilia si poteva candidare un'altra cosa uh Caldoro meglio votare De Luca non è così cioè non so più come dirvelo non so più come dirvelo siamo 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 in mano a un gruppo di persone che ci stanno vendendo e ci hanno già venduto non possiamo pensare che ogni voto che abbiamo che è tanto prezioso lo possiamo tranquillamente giocare perché ma è una cosa locale e così via da quelle vittorie locali loro traggono la linfa la forza per andare avanti a svenderci sono sono avvilito io lo so vi ringrazio però ecco diciamo così vi ringrazio tutti perché mi avete dato tanta forza in questo in questi in questi periodi io ovviamente andrò avanti a combattere esattamente come prima cioè per me non cambia niente adesso da oggi comincia la battaglia per riuscire a non far passare il voto il 9 quindi state tranquilli e se per caso passasse quello come probabilmente passerà da oggi inizia la battaglia da dopo inizierà la battaglia per non far passare il voto finale di ratifica in Parlamento quindi si non abbiate paura cioè nel senso non è che finisce qui io vado avanti ogni giorno a combattere e anche quando sarà finito tutto io andrò avanti lo stesso troppo importante la posta la posta in in palio per cui vi ringrazio dell'aiuto cosa potete fare niente quello che vi ho sempre detto andare a protestare non certo da noi ma da chi in questo momento è responsabile del furto qualcuno se ne fregherà sì qualcuno se ne fregherà qualcun altro probabilmente invece magari ci riflette se arrivano in 5000 su tutti gli account social twitter facebook e cose di questo tipo di ognuno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle dicendo che li riterrete responsabili del tradimento se quando ci sarà il voto il loro nome sarà dal lato dell'ok al mess non servirà niente non servirà niente però intanto io la coscienza pulita ce l'ho anche quando mi imbarco in battaglie che è probabile che perderò ma posso dire ho fatto tutto il possibile e fate così anche voi avete ascoltato scuola di magia grazie a tutti